Ciao a tutti, oggi voglio recensire il Ugly Harry Allora, innanzitutto ho fatto così, ho quello marrone e quello là più schifoso Scusate, non lo sto incontrando bene, lo vedete Ho quello là più schifoso, perché è quello marrone però, vabbè Ecco, c'è questo tizio Ecco, ora lo aprirò Scusate i miei capelli e poi c'è tanto rumore perché mia mamma doveva rastendere i panni Io ce l'ho aperta, ce l'ho la porta aperta Ok, apriamolo Ah, comunque non vi ho detto, che schifo Non vi ho detto una cosa, questo qua, questo Questo tipo di slime Fa anche le scuregge Comunque guardate dentro Così, vedete, però è solito Solito, scusate Vedete Ok, aspettate che lo fiume in mano Poi vi faccio vedere anche come fa di scuregge Ok, ecco qui Bello Scusate ma non sono abituata a questi video Ok, bello Ecco, quindi guarda Non ce la faccio guardarla Vabbè Ok Ora vi faccio vedere Ce la faccio a fare di scuregge Non ci fa veramente Avete sentito? Sì che le fa Dovete sottacciare No, non va più Ecco Ecco qui Vabbè, comunque È molto carino Mi piace molto E Comunque volevo dirvi Che ho appena aperto il canale E quindi Questo qua è il mio primo video Non so se Ecco qui Interrompo questo video Guardate il prossimo video Che non Che mi Guardate anche il prossimo video Ciao Ciao